Musica La penetrazione andando verso destra, passo di incrocio, riapertura per Kotnis da due punti, anzi da tre punti. Ha sparato abbastanza aggressivo il Cus in questo inizio difensivo, Kotnis da sotto a segno per lavorare dal palleggio, fa vento, il tiro dal gomito è sbagliato, Kotnis prende posizione ultimamente a rimbalzo contro Mariotti. 24-17, possesso offensivo per il Cus, trovata benissimo in posizione profonda, Aneta Kotnis, il blocco di Caldaro, poi il pallone ancora fuori, Kotnis guarda il canestro da tre, segna Aneta. L'amico basket con Nerini, quindi innocente, intanto arriva il tiro da tre punti, Kotnis. Strulli che corre in contropiede, riorganizza un attimo l'azione, assist per Kotnis, canestro da... Senza che avrà senz'altro condizionato la squadra di coach Becciani che dovrà sentire poi nel post partita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!